Ciao a tutte ragazze, oggi sono stata da Prenatal, ho comprato qualcosa di alimentare, tante vestitine e cosine carine e 2-3 cose per la cura dell'igiene. Passo velocemente ai alimentari, che sono quelli che ci interessano forse un pochino di meno, anzi non so ragazze, se vi interessa postatemelo qua sotto, scrivetemi qui sotto se vi interessa un video, anche dei prodotti finiti alimentari, ogni stato ne infilo qualche d'uno, ma se vi interessa fatemelo sapere. Crema di riso, noi Angelica non la mangia come minestra, ma la aggiungiamo al latte per renderlo un pochino più compatto, dato che da piccolina aveva avuto qualche problemino di riflusso, questo lo rende, lo gelatifica un po', mi diceva il pediatra, lo rende più compatto, viene meno su, ecco in parole povere. 400 grammi, il pacco di convenienza da 400 grammi, l'ho pagato, costava 3,99 e l'ho pagato 3,79. E Mellin non mi dispiace come crema di riso, non ha quell'odore super super vanigliato delle altre cose, Mellin. Poi crema e il semolino, allora lei piace tantissimo il semolino, piace anche a me, lo maggiorano anche gli adulti insomma il semolino, questa qui da Romana, io compro questo e non quello della Mellin, perché questo lo trovo più facile da sciogliere nel brodo, con l'altro della Mellin e altre marche, lui devo, praticamente devo usare il mini Pimer, invece in questo basta il cucchiaio istantaneo, si fa meglio. Questo costa, adesso non sto andando in ordine con lo scontrino, quindi spero di trovarlo. Eccolo qua, costa 2 euro, no, costa 3,29 euro, scontato 2,69, era in promozione volantino. Poi sempre da mangiare ho comprato vari di questi, omogenizzati, di, ah scusate un attimo, questo lo mangia, se vi interessa, con il brodo di pollo, fatto a me, naturalmente. Poi ho comprato questi, omogenizzati, sempre Mellin, 1,29 euro l'uno, sono due omogenizzati per confezione da 100 grammi, mi sembra, sì, 100 grammi. Io ho preso come gusti, mela mirtillo, guardate, che vi faccio vedere. Negli ingredienti volevo dirvi, mela, purè di mirtilli, acqua, amido di mais, succo, concentrato di carota, vitamina C. Perché so che molte di voi sono molto attenti agli ingredienti e preferiscono quelli un pochino più sani, nel senso che, tipo quello della plasma non è buono come sapore, ma all'interno c'è il succo di limone, in molti. E quindi Angelica, anche lei con il reflusso, il limone è sconsigliato, comunque adesso è guarita, diciamo, però io continuo un pochino a guardarci anche queste cose qua. Poi ho preso questo, mela ananas, costano tutti 1,29 euro. Mela, ananas, anche qui amido di mais, vitamina C e acqua. Questi vi ho detto, allora, mela mirtilli e mela ananas. Poi ho preso mela grumi, questo qui, mela, agrumi, succo d'arancia concentrato, succo di mandarino, succo di limone, qui c'è il limone, vabbè, a metà di mais, vitamina cipro, anche questo le piace. Poi ho preso frutta mista, qui all'interno della frutta mista c'è, non è specificato, comunque dice il pureo di frutta mista, 91%, mela, banana, no, c'è scritto, mela, banana, pesca e albicocca. E i soliti ingredienti. E per ultimo ho preso un gusto nuovo, scusate ma l'ho messo qui lontano, sul tavolo, ho preso i due, banana e kiwi, banana, kiwi, succo, qua c'è il succo di limone per esempio, acqua, il succo di limone, amido di mais, arame naturale, vitamina C. Vedete questi ingredienti, così fate le vostre valutazioni se gli ingredienti sono fattibili per voi. Mela grumi ve l'ho detto. Poi, e questo per quanto riguarda le cose da mangiare. Per l'attura della persona, scusate ancora, ho preso queste tre cose. Allora, i pannolini pant taglia 4, allora questi sono praticamente taglia 4, sono della Huggins, la taglia 4 che va essere dai 9 ai 14 kg, all'interno ce ne sono 15 e costano 5,99 euro, questi non erano in sconto. Dice che sono un prodotto nuovo, pannolino mutandina, estratto subito rossalmente per pelle super asciutte, si indossano come delle mutandine, vanta in vita morbida e super avvolgente, perché ho comprato queste. Intanto le volevo provare per abituarne un po' alle mutandine, perché Angelica adesso a fine giugno farà un anno, quindi secondo me da un anno in poi si può incominciare pian pianino, abituarne anche un pochino a provare il vasino. Ho preso queste perché cosa mi è successo domenica, vi racconto brevemente. Sono andata all'anniversario di matrimonio dei miei suoceri, dove hanno rinnovato le promesse 50 anni e ancora auguri, 50 anni di matrimonio e Angelica dopo la pappa, avevamo dovuto fare il ristorante al mare, perché loro abitano lì, hanno praticamente, Angelica dopo aver mangiato il suo bel semolino con provare di pollo, ho pensato bene di fare pupù e vado in bagno, aiuto, in bagno non c'è il fasciatoio, come faccio senza il fasciatoio? Chiama, aiuto, cioè chiama la mamma, che era con me, anche mia mamma, perché si conoscevano, conoscono tra la consuocere e mi sono fatta dare una mano da lei ragazze, cioè io non so voi come fate a cambiare il pannolino quando non c'è il fasciatoio, cioè diventa un buon problema, perché un conto si è fatto solo pipì, insomma la tieni così con uno strappi, gli strappi del pannolino, togli sciacqui o una sovietta o una lavata, e provi a infilare l'altro, ma quando fa pupù, insomma, non si sa, uno ha la gamba aperta, uno che non soviete e pulisce, cioè è stata una roba, lei delle urla pazzesche, perché poverina, già aveva appena mangiato, perché aveva tenere la stretta, ma stretta da sotto il dettile, diciamo, da qua sotto, no? Perché la parte sotto mi serviva libera per lavorare e mettere il pannolino, non vi dico, allora ho pensato io, se hai male che devo cambiare il pannolino, sperando di non essere da solo, stappo via il pannolino, una bella passata di salvietta, una lavata e poi tenendo la, magari mi siedo, quello che uso per coprire il, il telo che uso per coprire il fasciatoio, se il fasciatoio non c'è, lo metterò sul water, col coperchio chiuso, mi siedo io, poi appoggiando la fila, vesto, mi infido le mutande, ho avuto su idea, poi non so voi come facevate, fatemi sapere se avete provato in generale le mutandine al posto dei pannolini, ditemi come li siete provati, li trovo un po' cari, perché 5,99 euro, 15 pannolini, insomma, costano bel po', 6 euro, 15 pannolini, insomma, sarà che io sono fortunate dell'Aggis, che mi piacciono quelle dell'Aggis, trovo sempre delle offerte, pensate che due settimane fa, all'ipercoop c'era l'offerta di 14,99 euro, mi sembra, 100, sì 100, 14,99 euro, 100 pannolini, che è un prezzo eccezionale, al che io vedo il mio carellino, non il carrello, quello che tiri, lo vedo, ho detto, caspita, prende tutto il carellino, devo fare la spesa, quasi quasi, poi mi fa, signora, sa che se ne prende due le faccio un'alteriore sconto di 5 euro alla cassa, non possono comprarli, anche sono andata a prendere il carrello e praticamente con neanche 30 euro, meno i 5, 25 euro, mi sono portata a casa un bel po' di 100 pannolini, sto pensando se no, 200 pannolini, te lo dico, perché nel contenitore c'erano due file da 50, sì, quindi insomma una marea, sì, 200 pannolini, adesso fate conto che da sabato a oggi, che è giovedì, quindi sabato, sono 7 giorni, domenica 8, 9, 10, 11, in 12 giorni ho già usato 50, quasi 50 pannolini, quindi non mi dureranno tantissimo, comunque è stata un'effetta strapitura, sul taglio corto, sul sto video diventa interminabile, stavo dicendo queste montelline, se vi sono piaciute, fatemelo, se vi sono piaciute, se le avete usate, le montelline in genere, scrivetemelo, fatemelo sapere, anche se ci sono altre marche valide e poi anche, ditemi come vi organizzate voi nel bagno, quando non c'è il fasciatoio, che mi interessa molto, poi altre salviette, ho preso le salviette, pulisci il ciuccio, io di solito le compro in vostro, questa volta ho preso queste qui della Trenata, io Angelica il ciuccio assolutamente non lo prende, in casa ne ho parecchi, perché già ero andata all'ospedale con il ciuccio, perché dico, cavolo se piange, cioè il tappo lo chiamo io, le fa la stare buona, ma in realtà lei il ciuccio non sa neanche che cosa sia, e quindi le ho comprato anche il ciuccio per grattarsi i denti, sapete quello con tutte le maculature, tutte le bugnine per grattarsi, assolutamente il ciuccio zero, allora io questa lo uso per portarmi dietro quando le devo, cadono i suoi giochini per strada e glieli pulisco, non ho letto, spero che anche queste si vadano bene per, poi se capita che si mette in bocca al gioco, penso di sì, possiamo pulire il ciuccio senza risciacco, penso che vada bene, e queste costano 2,99€, poi ho preso queste altre salviette della Trudia antibatterica, 1,59€, costruziano un po' perché dentro ce ne sono solo 20, salviettine disinfettanti antibatteriche ad azione rapida, presidio medico-chirurgico, praticamente, se ho capito bene, sono, aspettate che vedo se c'è scritto anche in italiano, così vedi che devo fare una delle mie solite traduzioni, ok, disinfettanti antibatteriche sono utili per la disinfezione rapida delle mani e della cute non lesa, in tutte le situazioni in cui non sia disponibile praticamente l'acqua, efficace in pochi minuti, le salviette antibatteriche sono studiate per essere utilizzate in tutte quelle occasioni in cui l'acqua non c'era, ve l'ho appena detto, grazie al loro pratico formato sono ideali per l'utilizzo di fuori casa, richiudibili con la linguetta che non si vede ma è qui, e sono queste, ve le faccio vedere se vi interessa, perché le altre salviette sono un po' più insaponate, non hanno l'antibatterico e questo invece adesso lei inizia a smanzare dappertutto, inizia anche un po' a gattonare quindi se fuori casa si appoggia da qualche parte preferisco pulirla, a volte devo usare essere sincera anche in giardini, do anche una pulitina quando va nel dondolo, perché lei nel dondolo non è ancora tanto capace di tenersi strette e ci sapete quei dondoli per i bambini piccoli hanno quell'asta davanti e lei va lì e lo acciuccia, allora lì si è in slava, fa le pulizie, ecco questo è tutto, adesso passiamo ai vestitini, adesso qui ci sarà da ridere, riuscire a trovare questo scontrino perché hanno delle descrizioni particolari, allora, antivento, questo l'ho vista subito, antivento basico, allora questo è una giacchettina blu con le due taschine davanti, è il cappuccio, è tipo kiwi per intenderci, ha la zip davanti, vedete? E questo io ho preso alla taglia 18-24 che fa 89 cm, le sarà un picchino grandina, 89 cm, perché lei veste già più dell'80, però era 73 cm, quanti cm è adesso non lo so, la zip non va bene in su, no, mi tocca farlo cambiare, scusate un attimo, che cavolo, una piega che si intrega in mezzo, adesso metterglielo sarà giù, va giù bene, adesso voglio provare a chiuderla tenendo indietro lo stocco, vedete? vedete, ci chiede bene, voglio darci un occhio per sicurezza, ci riguarderò bene, ma insomma è questa, questa giacchettina qui antivento, stavo dicendo con calma adesso che qui c'è la protezione, no? E quindi questa ha preso una piega, si vede che è stata messa in un certo modo che tenta a rimanere avanti, e quindi quando tiri su si intriga, invece bisogna tenere la spinta indietro, per poi, vedete, viene avanti, per poi chiudere, adesso vi daremo una, non dico una stirata, perché non si può, però una messa in piega, diciamo, allora questo è il blu, è un blu abbastanza scuro, con questi fiorellini, è una giacchettina antivento, costava 19,99 euro, e se si ha la tessera VIP, costa 13,99 euro, adesso sto pensando che io sono qui che sto diventando di gomma per cercare nello scontrino, quando c'è l'etichetta col prezzo, scritto attaccato, buon giorno, facciamo prima, poi ho preso questo vestitino, che è praticamente pandan con il giubbino, vedete, ha la stessa, ha lo stesso fiore del giubbino, mi piaceva, qui però ho preso come taglia il 18,24, perché il 12,18 mi sembrava piccolo, qui il 18,24, 89 centimetri, non mi sembra così grande, a vederlo così, questo lo abbinerò, lo metterò con, niente, con le gambe nude, se state, questo dovesse esserci freschino, un collant bianco, oppure un leggings blu, col giubbino di jeans, o con quel giacchino lì, secondo me lo riesco ad abbinare bene, questo costava 10,99 euro, con la VIP 7,69, per chi non lo sapesse, è una card che dura un anno, che si acquista a Prenatal, appunto, mi sembra che costi sui 30 euro, che voi pagate per averla, e poi tutte le volte che andate avete il 30% su tutto quello che non è in sconto, tipo se io vado in negozio e compro questo, e non ho la PIP card, ho solo la card normale di Prenatal, lo pago 11 euro, con lo sconto invece 7,69 euro, quindi già qui si risparmiano 3,30 euro, solo su una cosa, arriverà a 30 euro in un attimo, se comprate spesso da vestire là, poi abbiamo comprato delle cose molto più leggere in previsione del mare, che per noi arriverà tra neanche un mese, perché noi a fine mese ce ne andiamo in Toscana, se c'è qualcuno di voi della Toscana, ragazzi, scrivetemi qua sotto qualcosa di bello che si può andare a visitare dalle parti più o meno di fronte all'isola d'Elba, per intenderci, la zona dell'ulfo di Baratti, io sono già stata in Toscana, 3, 4 anni fa, ero nella zona del parco di Rimignano, appunto, si è più o meno sempre lì, e sono andata a vedere Pisa, Siena, Firenze, no perché c'ero già stata da poco, poi ho visto San Gemminiano, Volterra, sto pensando, ho fatto tanti di quei posti, me le sono girate lungo e largo, perché non avevo la bambina, però avevo il cane con me, quest'anno le ho tutte e due, quindi auguri, mi hanno detto che c'è, si può entrare, c'è l'entrata libera anche a Saturnia, se ho capito bene, e io ho cane, quindi non saprei dove mettermelo, però mi piacerebbe andare a dare un'occhiata, insomma, se ci ci sono posti carini, le avvicinate, che vale la pena di andare a decifrare, fatemelo sapere. Poi ho preso questo completino, con i pantaloncini, con le fragoline, abbinato la sua magliettina, normalissima, a maniche corte, abbottonata dietro, con i pezzoncini di pressione, e il taschino cui, c'è questo taschino, la magliettina, l'abbiamo abbinata con questi pantaloncini, perché pensavo, poi ditemi ragazze, se concordate con me o no, datemi dei consigli, in spiaggia, io gli ho presi i costumini, però noi andiamo via praticamente le prime, praticamente sono le prime, quasi più o meno le prime due di giugno, e quindi ci sarà caldo, spero, però magari verso il tardi pomeriggio c'è un po' freschino, in generale, insomma, a partilà del mese, in estate, lei è ancora piccola, perché ha dieci mesi, avevo timore a prendere le cose troppo, troppo smanicate, e quindi mi sono buttata un po' sul pantaloncino e sulla maglietta, dico, poi in spiaggia, anche per proteggerla un po' dal riverbero del sole, nelle ore magari più calde, la magliettina a maniche corte, la canottiera mi dà l'idea, c'erano tanti bellissimi miei vestitini fatti a canotta, ma ho paura che la proteggessero poco dal sole, magari quella volta che non andiamo in spiaggia, facciamo un giro, so che bisognerebbe dare il solare lo stesso, però mi dà l'idea che lo proteggesse di più, comunque tornando a noi, la maglietta e quella vai, i braghini sono carini perché hanno anche quelle taschine qui, e questi ho preso un 12,18 e costano 7,99 con lo sconto 5,59 e la magliettina costa 4,99 con lo sconto 3,49, poi vi sto tenendo per ultimi costumi, è questo forte, poi mi piaceva questa magliettina, la trovo molto molto carina, vedete, bianca, maniche corte sempre, si apre con i bottoncini qua sulle spalle e con i due papagalli, questa intenzione è di mettergliela con i jeans o con un paio di leggings rosa così, oppure anche con i leggings blu, ma credo che forse, perché non sono proprio in blu vale a questo, quindi forse sta meglio con i jeans o con le leggings rosa, e questa mi è piaciuta molto, questa costa di più, costava 14,99, con lo sconto 10,50, questa costata un pochino di più, poi adesso vi faccio vedere, non sono carini, sono bellissimi, secondo me, queste sono le mutandine gialle, adesso qui sembrano un giallo chiaro, in realtà sono un bel giallo, quasi fosforescente, con questi disegnini rosa fosforescenti, la stella marina qua, mi è piaciuta tanto tanto, ho preso, adesso qua avrò tappato con le taglie, 12,18, 12,18 mesi, 10,99, con lo sconto 7,69, guardate che carino che sono, questi vanno portati senza il pannolone naturalmente, quindi adesso vediamo, anzi, avete mai provato i pannolini, quelli swimming, insomma quelli che praticamente è un pannolino che dovrebbe resistere un po' all'acqua, in modo che lì si può mettere il pannolino invece del costume in spiaggia, se si bagna non trattiene tutto se fa i suoi bisogni, anche se è bagnato, allora a me, più di una persona mi ha detto fai a meno di comprarli, assorbono ancora meno degli altri, comunque vanno a cambiare, se va dentro o fuori dall'acqua alla fine le devi cambiare 700 volte perché assorbono l'acqua, insomma mi hanno detto che fanno un po' schifo, quindi io ho pensato di mettergli il costumino nel momento che va nell'acqua, tenerglielo, poi se dovesse fare la pipì faccia o glielo lavo, glielo sciacquo, glielo lavo e poi nel momento che sta sotto l'ombrellone e non va in giro, lì è buona, le tengo il pannolino adosso, insomma, non so, dai datemi dei sconsigli, io non ho altri figli, sono una novellina, quindi ditemi anche voi, comunque carino è carino secondo me, poi dato che volevo proteggergli anche un pochino il pancino, potevano comprargli il costumino intero, guardate ragazze, c'ha il monospalla, sarebbe monospalla così, però c'ha anche comunque la sua spallina, è bianco con le righine, il blu poi c'è il fiorellino, poi sotto ci sono i due papagalli della maglia, questa qua, così quando vado al mare, sopra mettiamo la magliettina con i papagalli e quando togliamo la magliettina con i papagalli c'è il costumino abbinato sotto, in realtà sotto ci andrebbero i pantaloncini a righe con in vita un nastrino blu per fare il completo, però la gamba nuda secondo me ancora, non volevo comprargli troppi pantaloncini, troppa roba troppo 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 leggera per adesso, comunque là ci sono, al massimo li andrò a comprare in un secondo momento, anche perché prima voglio provargli gli altri pantaloncini che li ho comprato, perché così occhio mi sembrano piccoli di girovita, questi ho preso un 12-18 che dopo vi faccio vedere che in un altro completo glielo ho presi più grandi, ho quasi finito eh ragazze, comunque questa secondo me è tanto carina e il costume secondo me è super super figo, e se non vedo l'ora di provarli, adesso sta sera per fare il bagnetto le dovrei provare tutto, secondo me mi odierà oggi comunque, guarda che carino, mi è piaciuto un sacco, questo costa 16,99 e l'ho pagato 11,89, poi ultimo completino, ultima cosa che ho comprato, un altro costumino, perché ne ho presi tre in totale il costume, questo costumino, questo piaceva la nonna, secondo me è un colore che non è che mi facesse impazzire, lei piaceva, l'abbiamo fatta contenta, l'ho comprato lo stesso, dai ho accettato il consiglio, questo è corallo, un bel costumino corallo con i pua bianchi, questa faccina qui dietro è tutto così, e costa 10,99 con la VIP 7,69, abbinato a questo ho preso i pantaloncini e la maglietta, così quando togliamo i pantaloncini e le magliette ci andiamo oppure se tiene in spiaggia la maglietta e il costume è abbinato a loro, i pantaloncini qua ho preso i più grandi, 18,24 anche tanto se c'è qualcosa a livello di, poi glielo provo se c'è qualcosa a livello di elastico, li vado a cambiare o magari li faccio stringere un po' questi costano 10,99 con lo sconto 7,69 e abbinato sopra ci mettiamo, ecco ho preso la canotta in questo caso, la canottiera, in caso che ci sia molto caldo, bianca, con questo disegno che richiama, la ragazza che prende il sole col cappello, il costumino, che richiama il fosforescente del costume, così magari se tiene la canottiera in spiaggia c'è la maglietta che richiama il costumino e se tiene invece solo i pantaloncini farina anche così con il suo costumino sotto. Vedete ragazze, questo è tutto, spero che vi piaccia, se vi state domandando che belle cose, piacerebbe prenderle anche a me, alla mia bimba, ma ci saranno tagli più piccoli, sappiate che l'abbigliamento l'ho preso nel rapporto 3,36, quindi tutte le cose che vedete le trovate dai 3 ai 36 mesi, naturalmente sempre se non sono esaurite. I costumini invece vi è sicuro che ci sono anche ancora più piccolini, perché li ho visti proprio mentre scartabellavo per trovare la taglia, ho visto che c'era 0,3, quindi trovate tutto, sono tutte cosine che fino all'anno, sicuramente fino all'anno trovate, ma sia anche di più, perché fino fuori ai 36, ma forse anche un pochino di più, perché abbinato a questo costumino, per esempio, c'era la gonna di questo colore e mi è capitato in mano un 4 anni, 4-5 anni, quindi trovate tutto. Questo video è diventato interminabile, ragazze, scusate, 26 minuti, io direte, però secondo me queste cose erano troppo carine, troppo, 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 non potevo non farvele vedere. Adesso occorre a controllare il giubbino, vedere se è tutto a posto nella zip, scrivetemi qua sotto che cosa vi è piaciuto, se c'è qualcosa che vi è piaciuto in particolare, scrivetemi, mi raccomando, nei commenti le cose che vi ho chiesto, datemi dei consigli, voi che siete mamme, chi in mezzo di voi mi può dare dei consigli per la gestione del pannolino, come dicevo, quando non c'è il fasciatoio, la questione del sole, quando si va in spiaggia, se tenendo la maglietta o no, le protezioni solari, io adesso mi butto sul 50 e oltre, perché anche io ho intenzione in faccia di darmi quella, perché vedete che con il sole mi sta già ricominciando a uscire questa maledetta macchia, che riesco a debellare, poi i primi suoni mi torna, comunque a parte quello, adesso, anzi scusate, anche la faccia, perché sono completamente struccata, cioè ho sopracciglia, mascara, un po' di rossetto, ma sono struccata perché sto facendo un po' di gocce magiche della Collister, quindi sono un po', non sono bianca, ma non sono, insomma si vede che non sono struccata, e niente ragazzi, vi mando un bacione, aspetto i vostri commenti, iscrivetevi al canale, lasciate un like, e tutte queste belle cose qui, un bacio!